guardo queste realtà imbevendo l'anima dei bagliori delle ombre e delle sapienti sfocature e catturo in questi spazi vuoti carichi di tensione spazi monocromi che chiamano atmosfere impalpabili ma di grande grande incisività colgo delle energie sottili delicatissime fatte di minute pieghe riverbere intensi ombre che diventano soggetto e non elemento annesso a qualcosa sono immagini fatte di silenzio hanno la raffinata tensione mistica verso una leggerezza e un'immaterialità che richiama la dimensione del vuoto e tra questi interstizi vuoti silenziosi e immateriali sembra di intravedere tracce dei nostri ricordi lontani